Cosa c'è che non va in questa legge finanziaria e perché avete deciso di manifestare davanti alla Prefettura? Questa finanziaria, siamo critici come Will per quanto riguarda questa finanziaria, siamo presenti in tutte le piazze del Veneto, oggi siamo a Rovigo, abbiamo fatto assemblee nei posti di lavoro, abbiamo fatto siti in presso prefetture, abbiamo fatto anche assemblee con i lavoratori. Cosa va in questa finanziaria? Non vengono date risposte a lavoratori, lavoratrici e pensionati italiani. Abbiamo per quanto riguarda la perequazione delle pensioni, 4 volte al minimo non sono risposte perché un lavoratore specializzato non si può bloccare la pensione, non vengono date risposte per quanto riguarda il cuneo fiscale, una detassazione del 3% per quanto riguarda fino a 20.000 euro, non ci sono risposte sulla sicurezza, non c'è risposta sulla sanità, sulla sicurezza e per quanto riguarda i voucher fino a 10.000 euro non possiamo accettare, è una precarizzazione, vuol dire non applicare i contratti di lavoro, non c'è per quanto riguarda l'applicazione del piano nazionale di resilienza, anche questo viene mancato all'interno di questa finanziaria. Abbiamo altre cose che sono per quanto riguarda il POS, anche il POS, la moneta contante fino a 60 euro e i 5.000 euro per quanto riguarda il contante, vuol dire dare risposte a chi fa il nero, noi siamo contrari a quello che è il contante perché anche questo non ci sono risposte. Devono essere date anche detassare le tredicesime, detassare gli aumenti contrattuari e dare risposte concrete a lavoratori, lavoratrici e pensionati.